In società si sfoglia la margherita per capire quali movimenti, ma soprattutto quali progetti, si vogliono mettere in campo all'alba di una stagione che nasce nel segno dell'incertezza. La polisportiva al Dippari, dopo il trionfale campionato di promozione, vorrebbe, ma come si dice in gergo, non può, avendo, alla strego di tante altre società dilettantistiche siciliane, grossi problemi di ordine economico che non consentono, appunto, ambizioni e passi affrettati. Noi siamo pronti per la Serie D, ha fermato il Deoxy Machina del club Corrado Lentini, ma bisogna fare i conti con le nostre casse e ad oggi la situazione è alquanto preoccupante. Il massimo dirigente vittorese, quindi, lancia l'ennesima allarme e mette le mani avanti, senza un concreto sostegno da istituzione e classe imprenditoriale, dice, c'è l'eventualità, purtroppo, di ripartire nuovamente dal campionato di promozione. Autentica beffa per chi ha invece vinto sul campo, come avvenuto la scorsa stagione. In quest'ora, intanto, lo stesso Lentini sarà impegnato in un incontro, insieme ad altri dirigenti di altre società, per mettere a punto gli orari di allenamento presso il palazzetto dello sport e il rito, immancabile, di ogni inizio stagione a vittorie, un rito che spesso suscita malumori da parte di chi vorrebbe orare il suo esclusivo favore, senza tener conto anche e soprattutto delle esigenze altrui.